Nel marzo del 2017 uccise il padre sparandogli a bruciapelo un colpo alla nuca con il fucile del nonno davanti ai carabinieri che lo interrogarono disse che aveva premuto il grilletto per gioco. All'epoca dei fatti il figlio di Enrico Bogian aveva appena 16 anni, oggi il ragazzo diventato maggiorenne potrebbe tornare presto in libertà. Durante il processo di secondo grado la corte d'appello minorile ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore del ragazzo che chiedeva la messa in prova. Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado che condannava il giovane a 10 anni e 8 mesi per l'omicidio del padre con l'aggravante della premeditazione. Ora è stato predisposto un programma impegnativo per i prossimi tre anni che il ragazzo dovrà trascorrere in una comunità. Dunque dal prossimo 2 giugno ogni misura restrittiva verrà meno anche se il neo 18enne continuerà a vivere in una comunità che lo aiuterà nel suo percorso di recupero. Il 24 marzo del 2017 il ragazzo dopo essere rimasto a casa da scuola andò a fare visita alla nonna, lì in camera da letto prese il fucile del nonno, lo portò a casa e lo nascose. Quando il padre tornò dal lavoro mangiarono assieme e mentre si stava riposando il divano il ragazzo gli sparò alle spalle, poi uscì a nascondere l'arma e rientrò fingendo di trovare il corpo del padre.